Ciao, abbiamo sporzionato della chianina femmina con la quale prepareremo un piatto di tagliata. Bene, è pronta! Come puoi vedere abbiamo provveduto a realizzare questa crosticina che non è altro che la reazione di Maillard, è stata scoperta da un medico francese, dove interagiscono le proteine con i zuccheri della carne creando questa crosticina che richiama un sentore di crosta di pane. La temperatura interna della carne, abbiamo 55 gradi, per cui abbiamo una bella tagliata al sangue, di per sé tenera perché chianina femmina, e quindi è pronta per essere servita con un eccezionale vino della Maremma Toscana, il Lodai con 12 mesi di barricche che ti dà un ardore nelle vene dopo aver mangiato una bella tagliata. Ti saluto, ciao!